Salve, la color correction secondaria riguarda la regolazione di parti specifiche del frame occupate da un ristretto intervallo di tonalità. Gli esempi più comuni sono isolare i toni della pelle per poterci lavorare sopra, oppure qualche elemento da decolorare oppure da colorare, in modo da metterlo in risalto. Prima di cominciare la color correction è sempre bene studiare le caratteristiche del filmato. Ne abbiamo già parlato nel video 14A. In questa fase dobbiamo esaminare le varie zone dell'immagine per capire cosa fare per migliorarla o correggerla e se c'è bisogno della solo color correction primaria o se ci sono differenti parti che ha bisogno di color correction specifiche. In inglese questa fase è chiamata Image Segmentation ed è bene studiarla a fondo per procedere con consapevolezza. Uno dei metodi più usati per ottenere una specifica parte su cui lavorare è l'HSL Qualifier. Io lo pronuncio così, in parte in italiano e in parte in inglese. Ogni programma ha il suo tipo di strumento che producono anche effetti diversi perché sono basati su algoritmi diversi. Ma in realtà il concetto base è lo stesso, l'estrazione di una chiave di colore, cioè il chroma key, che crea un canale alfa contenente un matte. La parte solida del matte, cioè quella bianca per capirci, sarà la zona che abbiamo delimitato e su cui vogliamo intervenire. La parte nera sarà tutto il resto dell'immagine. Anche se nel RGG ha la sua versione di HSL Qualifier, che si chiama Blue Banana, ed è stato creato da un mito vero e proprio dell'open source, Chris Monti Montgomery, creatore dei formati audio e video, OJ Vorbis, FLAC e OJ Tiora. Come in tutti gli HSL Qualifier, il primo passo consiste nella creazione del matte, tramite regolazioni sugli strumenti di Hue, Saturation e Value. Ottenuto questo, e quindi siamo nel secondo passo, Blue Banana offre ulteriori strumenti per modificare i colori, lavorando su RGB e su HSV. Vediamo il funzionamento in dettaglio. Vogliamo circoscrivere tutta la porta selezionandola rispetto allo sfondo. Il primo passo da fare è disabilitare e resettare tutte le regolazioni. Questo perché Blue Banana si ricorda delle impostazioni precedenti e aggiungerne altre potrebbero produrre effetti indesiderati. Meglio è resettare e ripartire da zero. Adesso si abilita il primo dei tre controlli di HSV, cioè la tonalità. Si può cercare il colore da evidenziare scorrendo lungo lo slider per tutto lo spettro. Tale spettro è equivalente alla ruota colore. È un modo molto approssimativo, ma veloce. Se conosciamo le coordinate esatte del tono sulla ruota colore, le possiamo mettere sui primi due quadratini di inserimento. In questo modo avremo la massima precisione. Ma il modo migliore è senza dubbio l'uso del contagucce nella finestra Compositing. Possiamo ottenere il colore di un singolo pixel o di un'intera regione regolando il raggio a piacere. In blu banana ci basterà fare clic sul pulsante Seleziona per ottenere subito il colore desiderato. Adesso dobbiamo regolare l'intervallo di colori, agendo sulle maniglie laterali. Essendo indipendenti fra di loro, si può ottenere un intervallo asimmetrico. Infine si può usare il pad superiore per determinare la morbidezza, ovvero la sfumatura del bordo della selezione, in inglese edge slope. Il suo valore si legge, o si può impostare in anticipo se lo conosciamo, nel terzo quadretto di inserimento. Sono questi i tre controlli fondamentali degli HSL Qualifier. Il centro, cioè il colore base, il range, cioè l'intervallo delle tonalità vicine, e la tolleranza, cioè la sfumatura dei bordi. Per vedere la maschera creata, si deve abilitare Marca aree selezionate. Questo deve essere abilitato di proposito, e non è bene che sia attivo di default, perché impegna molto il processore. Ricordatevi di abilitarlo solo quando necessario, cioè la creazione della selezione, e di disabilitarlo subito dopo. Comunque potete vedere che il risultato è lontano dall'essere soddisfacente. Io mi sono segnato i valori migliori e li riporto senza dover perdere troppo tempo. Non fatevi impressionare dal risultato, dobbiamo ancora intervenire sulla saturazione e sulla luminosità. Abilitiamo uno alla volta questi strumenti e procediamo alla regolazione in modo simile a quanto fatto per la tonalità. Il funzionamento delle maniglie del pad superiore è identico. Fate particolare attenzione allo strumento della luminosità perché agisce sul canale Y ed è importante per la precisione del risultato. Si può inoltre abilitare e usare lo strumento Fill che espande o erode il bordo della selezione. Serve soprattutto a riempire buchi indesiderati espandendo la selezione oppure al contrario di non perdere piccoli dettagli che verrebbero coperti dalla maschera. La freccetta di sinistra effettua l'erosione shrink la freccia di destra l'espansione groove e il pad in alto sfuma i bordi come al solito. C'è differenza fra eseguire prima lo shrink e poi il groove e o il contrario. Di default il blu banana apriva prima il groove e poi lo shrink ma si può invertire la successione con il comando attenua posto lì accanto. Io emetto subito i valori migliori che ho trovato così non perdo tempo. Si ottiene finalmente una maschera di selezione non perfetta ma accettabile. il fatto è che non sono molto furbo e mi sono scelto un video che presenta le tonalità del legno non solo sulla porta e quindi circoscrivere l'intervallo voluto non è affatto semplice. Vabbè diciamo che l'ho fatto apposta per fini didattici vai. Comunque possiamo rifinire il lavoro tornando più e più volte sui propri passi. Siccome i tre controlli sono interdipendenti regolare al meglio uno la tonalità per esempio porta una diversa resa delle altre passando continuamente a regolare l'uno o l'altro controllo richiede tempo e impegno ma con l'esperienza si ottengono ottimi risultati. A questo punto c'è il punto debole di Blue Banana a confronto con gli altri HSL qualifier e si creano un vero e proprio matte in un canale alfa separato che possiamo vedere giudicare e aggiustare per conto proprio. Insomma ci possiamo intervenire sopra con del blur per esempio. Invece in Blue Banana si influisce sul piano alfa plane in inglese intimamente legato al piano usuale che non è visibile perché non è un vero matte ma più una maschera di selezione e non ci si può operare sopra autonomamente. Infatti per rendere visibile la selezione dobbiamo usare il comando marcare selezionate come avevamo detto. Un altro punto debole è che non si possano sommare più selezioni fatti con il contagocce in un unico matte. Pensateci sarebbe comodo selezionare un rosso poi espandere la selezione selezionando un arancio e così via. Però esiste un workaround applicando un secondo Blue Banana alla stessa traccia e selezionando con il contagocce una diversa tonalità. Le due selezioni separate possono poi essere unificate tramite la voce combina selezioni che applica un'unione oppure un'intersezione dei due rispettivi canali alfa. Di default si ha l'intersezione se si spunta la voce si ha unione. In tali casi il Blue Banana più importante dei due è quello in basso perché raccoglie l'output di tutto ciò che c'è sopra e quindi è su questo che si deve regolare e combina selezioni. Questo è un comportamento generale di SNL RGG e non solo di Blue Banana. Così abbiamo finito il primo passo abbiamo cioè creato una selezione di una specifica parte del nostro frame. Nel software di grading in generale l'HSL Qualifier è finito e si vanno ora a usare vari strumenti per la modifica dei colori. Invece in SNL RGG il secondo passo si attua internamente a Blue Banana abilitando la voce filtro attivo e poi abilitando le tre voci RGB oppure le tre voci HSV o magari anche tutte e sei regolandole a nostro piacere. Si possono rendere le nostre modifiche più lievi usando lo slider sfuma oppure decidendo la forza con cui il canale alfa influenza i tre canali del colore agendo con lo slider alfa. Apro una parentesi sulla qualità del filmato su cui dobbiamo intervenire. Tutta la color correction richiede videoclip senza artefatti visivi e senza rumore in più richiede un sottocampionamento di rominanza di almeno 422 questo perché i blocchi di compressione o anche il rumore o anche i blocchi di rominanza dovuti al 420 o al 411 rendono l'immagine su cui lavorare non omogenea portando a bordi segmentati e a blocchi di colore strani vicino a quelli vogliamo estrarre. Se siamo costretti a lavorare con formati altamente compressi come per esempio H.264 e H.265 possiamo solo provare ad attenuare leggermente i problemi. Per i bordi troppo segmentati possiamo applicare del blur. Per sottocampionamenti insufficienti si può provare a creare un luma key invece di un color key perché il sottocampionamento del luma è sempre al massimo cioè 4 su 4. invece sul colore può essere 2 o 1 o addirittura 0. Altro tentativo è applicare un certo blur al soli canali di CB e CR. In questo modo si mantengano netti i bordi che sono dovuti al luma e si rende leggermente più omogenei e meno rumorosi i colori. Si può anche sfruttare la pipeline basata sulla posizione dei plug-in per ottimizzare il risultato della key. Per esempio esaltando la saturazione e il contrasto del frame con gli appositi filtri prima di applicare Blue Banana così si può rendere più facile l'estrazione della key. Si può sempre ritornare a livelli più blanciati in un secondo tempo. altro trucco ancora visto il Blue Banana lavora a 32 bit float e quindi non fa clipping mentre spesso alcune delle correzioni primarie creano segnali clippati all'intervallo 0-1 allora il trucco è semplicemente applicare la correzione secondaria prima della correzione primaria. In pratica se aumentando il contrasto o bilanciando i colori si ottengano zone sovrassaturate insomma il clipping allora meglio fare una correzione secondaria di tale zone per mantenerle nei parametri illegali e solo dopo fare le correzioni primarie. Altro caso è quando proprio non si riescono a distrarre chiavi di colore per la sola zona che vogliamo entrandoci sempre anche altre zone indesiderate. In questi casi o si fa un roto per eliminare le parti indesiderate o al contrario si fa un roto per limitare le stazioni alla sola zona desiderata oppure si applicano due o più blu banana per sommare l'effetto di varie maschere di selezione diverse. Infine ritorno sul consiglio principe già dato nel video 14a Creare un intermedio digitale senza rumore e lavorare su questo garantendo la massima conservazione di informazioni per tutta la pipeline. non importa se sono poche le informazioni di un formato altamente compresso tutti i suoi pochi dati verranno comunque conservati intatti. Bene è finita la parentesi che oltretutto ho già affrontato più volte in questa serie di video e anche nell'altra playlist dedicata alla teoria di base sulle immagini digitali ma d'altra parte è un concetto fondamentale e non fa male ribadirlo. Vediamo ora alcuni esempi Blue Banana si può usare come già detto per isolare e cambiare il colore di specifici elementi dell'immagine per esempio diminuire la luminosità e la saturazione di un corpo estraneo che disturba la visione del soggetto principale oppure si usa per cambiare sempre come esempio il colore del vestito del soggetto per renderlo più evidente. Invertendo la maschera di selezione ottenuta tramite l'apposito checkbox si può intervenire sull'atmosfera dello sfondo senza intaccare il soggetto. Si possono isolare le zone troppo scure per schiarirle e saturarle senza intaccare le parti troppo chiare per esempio senza bruciare una finestra che si apre sulla luce o al contrario si può ricavare dettagli dalle parti troppo chiare senza rendere neri assoluti le parti più scure sempre usando il comando inverti maschera si può desaturare lo sfondo fino al bianco e nero e lasciare colorato il soggetto. Insomma sono tanti i casi in cui usare un HSL qualifier ci sono però anche i casi in cui non si dimostra adatto per esempio quando si devono fare regolazioni particolarmente fini e sofisticate dove insomma servono di più la dottilità delle curve in particolare le curve di tonalità purtroppo si nell'RGG non possiede tali potenti U-curves si può usare come workaround lo strumento HSV all'interno di Blue Banana ma non è proprio la stessa cosa la dottilità la dottilità delle curve di tonalità serve anche per bilanciare le diverse temperature di colore di diverse fonti di luci presenti all'interno di una scena anche qui gli HSL qualifier mostrano i loro limiti in pratica Blue Banana si dimostra efficace quando l'immagine presenta valori di chrome e di luma che sono facilmente distinguibili nelle diverse parti la loro selezione sarà allora facilitata finiamo questo video con un discorso sulla profondità dell'immagine in genere si cerca la massima profondità di visione tranne casi particolari ovviamente perché rende l'immagine più immersiva ed emozionante oltre che esteticamente più attraente alcuni parametri per rendere l'immagine maggiormente tridimensionale riguardano la fase di ripresa e sono prospettiva occlusioni cioè le sovrapposizioni fra le figure e anche i punti di fuga in questo caso si parla di prospettiva geometrica altri punti sono il moto relativo fra le figure le figure più lontani si spostano meno ai nostri occhi rispetto a quelle più vicino è il fenomeno della parallasse e ultimo punto che riguarda la ripresa è la vera e propria stereoscopia 3D su questi fattori non possiamo fare niente in posto di produzione invece su altri possiamo agire 1 contrasto bianco e nero cioè di luma lo abbiamo visto nel video 14b 2 tonalità e saturazione colori caldi o saturi sembrano più vicini perché risaltano meglio ma un po' tutti i contrasti di colore accennati nel video precedente possono influire su come percepiamo la profondità 3 gradienti vignettature e particelle volumetrie stile nebbia foschia eccetera in pratica quella che viene chiamata prospettiva aerea e infine 4 dettagli a fuoco e profondità di campo possiamo regolare questi fattori per farli rendere al meglio alla nostra vista gli strumenti da usare sono gli stessi visti in questo e nei precedenti video quindi non approfondirò l'argomento potete sempre leggere il libro di van yorkman che è ricco di spiegazioni dettagliate ed esempi tratti dal suo lavoro di colorista esaminiamo quindi come fare in senelera gg le vignette oppure il gradiente per fare le vignette abbiamo solo i filtri ffmpeg con la loro interfaccia quasi a linea di comando e quindi molto scomodo da utilizzare è molto efficace e funziona molto bene però appunto può essere noioso e quindi non approfondirò molto questo filtro passerò direttamente al filtro gradiente che invece è piuttosto potente e possiamo farlo funzionare anche come vignettatura dobbiamo scegliere radiale perché lineare non serve per fare una vignettatura radiale invece funziona molto bene si può scegliere poi il metodo di fusione della gradazione tra lineare logaritmico e quadratico a me piace più il quadratico lascerò questo poi imposta il raggio interno del cerchio interno che sarà centrato sul nostro obiettivo così e anche il cerchio esterno da ultimo si fanno i colori inner color quello interno e outer color quello esterno l'inner in genere preimpostato a bianco però il risultato è questo non è un granché per renderlo visibile il nostro soggetto si può portare l'alpha cioè la trasparenza a zero e quindi si vede ma abbiamo ancora un problema la miscelazione durante la scalatura durante il gradiente fra nero e bianco il bianco compare lo stesso anche se l'abbiamo portato a zero la trasparenza questo perché la trasparenza riguarda solo il cerchio interno e non nella fase di fusione fra il nero e il bianco la cosa migliore quindi è portare a nero anche il colore interno anche l'inner color tutte e due a nero e quindi la gradazione il gradiente lo avremo da nero a nero fino a diventare completamente trasparente nel cerchio interno e quindi è proprio il nostro effetto bene nel prossimo video vedremo gli ultimi strumenti fondamentali nella color correction cioè l'uso delle maschere e dei keyframe e dei keyframe